eccoci di nuovo qua con l'altra apertura con la 23esimo dovrebbe essere esatto nello scorso video appunto abbiamo trovato fancy che non avevo ecco qui procediamo con l'altra patata più divano mamma fa che trovo un'altra rocker immagini però non è detto perché vedi anche con l'altra l'avamo trovato lo stesso indizio questi sono appunto i quali ti ho dei simili qui intanto toglie tutta la plastica che producono le lol c'è una bulla nuova azzurra andiamo a vedere il video un'altra diversa questa non ce l'ho sono convinta un'altra diversa che bello visto che ti è andata di culo esatto un'altra diversa vediamo un po ok vai fammi togliare le dita oh sfivaletti non so chi sia sinceramente magari sto aprendo una che procediamo ancora che non ho mai visto vediamo sai che forse le ho prese tutte diverse ok io l'unica cosa che mi auguro che ne sia un'altra marocchina c'è un'altra con il vestitino oh fa che ho trovato forse ho trovato Miss Baby che mi dovrà appunto che mi dovrà arrivare tra l'altro in viaggio e ho trovato Miss Baby che avrò a breve però comunque la scambierò quella che mi arriverà un'altra palla ancora ci resti esatto appunto questo questo praticamente ragazzi ho trovato le due principezzine però sono contenta per lo meno perché non sono due inoltre ho questa qua ha due cose sì 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 questa è l'altra Chiara e questa è la fascia da Miss Baby l'altra fascia da Miss Baby aspetta vai no eccoci qua con Miss Baby sì quindi più diverse da adesso e piange anche lei ma ovviamente sì c'ha i buchi quindi piange anche non c'è bisogno di farla vedere e tutte le altre che le hanno trovate fa pipì sia lei che Fancy notate che vedete qui in mezzo vedete vedete eccolo rivelete i due buchi quindi vuol dire che piange esatto ok quindi per diciamo un po' velocizzare il video non ve lo faccio vedere perché comunque è lo stesso ormai penso che lo sappiate a memoria ok perfetto questa appunto è la fascetta si mette così e la Chiara come al solito vedete che hanno i soliti di forelline va bene lo sapete comunque non ci vuole non bisogna essere un ingegnere per fare queste cose allora anche lei farà parte del mio sfondo diciamo ok perfetto ok molto bene noi ci vediamo alla prossima apertura quindi l'ultima ultimissima roll esatto quindi alla prossima alla prossima ciao ciao ciao